Avanti, continuiamo, non faremo perdere tutto. Sta arrivando qualcuno, dobbiamo nasconderci. Ok, combattiamo. Sarà meglio continuare a modici, si stanno rallentando. Sappiamo come tornare indietro, vero? Ma come è che faremo uscire? Attento, Eddie, non possiamo passare. Prova a vedere se riesci ad avvicinarti. Sì, usa il protego, o resteremo qui tutto il giorno. Grazie. Stai usato protego molto bene. Non passare la prima legge che ci sono. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì. Hai troppa paura per la sua identità solo, botte? Ah, donna. Scusa, amico. Insomma, Barone, perri è inutile. Andremo avanti. Cerca di trovare un'altra moto per seguire.